Uè Nanni, sveglia! Devi fare una consegna molto, ma molto urgente! E dov'è che devo portarli? Qui c'è una brutta notizia. A Pietracatella, in Molise. Ma no signora, non faccia così! Velocità! Velocità! Chi siete voi? Ma ci sembra qualcosa... per riavere la nostra salma? Non m'ho mai sa che ci sta! Ma non è il capito! Scusi! È sua! Dov'è?